Quando scegli l'università, pensa a come può essere il tuo futuro. Pensa a un ateneo di eccellenza, a una città ricca di storia, arte e cultura. A una residenza universitaria in cui vivere e studiare, con i migliori servizi e tante opportunità per la formazione, per lo sport e per il tempo libero. Quando pensi al tuo futuro, scegli il Collegio Borromeo di Pavia. Un collegio storico e di merito, che dal 1561 crede nelle tue qualità. Almo Collegio Borromeo di Pavia. Il futuro è tutto merito tuo. Grazie per la visione.